Nella città di Federico, la donna in primo piano, ottobre rosa duemila ventitré, l'associazione Una stanza per un sorriso sostiene i pazienti oncologici, sostiene le donne e nel ricordare di fare sempre prevenzione, Altamura e non solo si fingono di rosa. Ottobre rosa, promossa da Una stanza per un sorriso e realizzata grazie al supporto tecnico e all'illuminazione monumentale della ditta Maggi Michele. Ottobre rosa, uno speciale all'interno di Zoom con Mimmo Moramarco su Delta TV, domenica e lunedì, come sempre, vi aspetto.